Passerelle in comune per le Biancorosse Piacenza, la squadra del calcio femminile che si sta distinguendo nel campionato regionale di eccellenza. Una creatura a frutto dell'impegno della Presidente Cristina Zoccheddu e che porta in giro per l'Emilia Romagna il nome di Piacenza, anche grazie ai tanti sacrifici che fanno ogni giorno le ragazze. Penso che sia anche doveroso, soprattutto per gli sforzi che fanno in uno sport che adesso molti cavalcono l'onda del calcio femminile, però per quelle che sono le possibilità che vengono offerte, io parlo di questo gruppo, è veramente una cosa importante e faticosa che porta avanti la Presidentessa Zoccheddu, perché praticamente questa società non ha casa, non ha un luogo dove potersi allenare, deve sempre andare in prestito presso altre società, quindi questo è un passo in avanti almeno come riconoscimento. Io gioco a calcio davvero da piccolissimo, ho iniziato che avevo sei anni, è una passione che ho sempre maturato negli anni, tra altre basse infortuni, ci nasci con questa passione. Sei capitano di questa squadra, come sta andando la stagione? La stagione quest'anno è iniziata molto bene, adesso siamo seconda in classifica con una partita in meno dalla capolista, contro cui abbiamo già giocato e abbiamo portato a casa un bel pareggio, le prospettive sono tante e siamo sicure di fare molto bene quest'anno.